Bentornati su MyFootballJersey. Torniamo in Italia per vedere questa maglia, secondo me molto bella, la seconda maglia dell'Inter per la stagione in corso, in edizione FAN. Grazie a tutti. A me non dispiace, sono curioso di sapere nei commenti se vi piace o meno. Il costo lo vedete qui sopra? Ecco, su questo non si può sbagliare. Trovate qua sotto in descrizione tutti i riferimenti per ordinare la maglia. Andate a vedere perché per i nuovi iscritti c'è un link per ottenere un coupon da 3 dollari, quindi il costo è ancora più vantaggioso. Ora vi lascio la parte finale, prima però mi raccomando iscrivetevi al canale. Per oggi è tutto, alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media della versione FAN. Ciao! 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 Ciao!